E' Cinzia Mirabella, il nuovo assessore alla nettezza urbana e all'igiene urbano. La nomina sarà oggi alle 14. Già consigliere comunale, la Mirabella arriva all'esecutivo con una delega critica per la città del Corallo. A meno di un mese dalla nascita della nuova giunta a Palomba, l'assessore alla nettezza urbana, l'avvocato Imma Marra, ha rassegnato le sue dimissioni. Abbiamo ascoltato il consigliere comunale Luigi Mele che, insieme al consigliere Mario Buono, aveva proposto il nominativo della Marra. Quali sono i motivi che hanno portato a queste dimissioni? Si è dovuto allontanare dalla campania per motivi familiari, perché ha una sorella che non sta bene in salute e quindi è dovuta andare via. Siccome la cosa purtroppo non si risolve in breve tempo, ha deciso di lasciare per non creare problemi, visto che comunque il settore è particolare e quindi c'è bisogno della giusta attenzione per portare avanti le problematiche da risolvere. Si è già scelta un nuovo assessore, una nuova delega? Sì, è stata nominata, è stata preparata poco fa dal segretario generale, la nomina Cinzia Mirabella, che i cittadini già conoscono, è una persona che comunque conosce l'ambiente, conosce gli uffici, conosce la città. Quindi abbiamo preferito questa volta dare la possibilità ad una torrese di poter darci una mano e quindi di portare avanti quelle che sono le idee che in qualche modo stiamo creando e formando un gruppo per far sì che tutto si possa risolvere quanto prima possibile. Come ha detto lei, è un settore che ha bisogno di una presenza costante dell'amministrazione, quello dell'ANU. Questo potrà provocare dei ritardi? Purtroppo le cose da seguire sono tante sicuramente, gli uffici sono in difficoltà. La politica, noi che siamo entrati adesso, fa parte della maggioranza e che abbiamo in questo momento la responsabilità di questo settore, abbiamo tante cose da verificare sia nel capitolato sia nel contratto. Quindi si vede, purtroppo in strada non viene eseguito lo spazzamento, c'è tanta spazzatura. Quindi in qualche modo dobbiamo trovare il modo per poter risolvere queste problematiche nell'immediato, altrimenti non ha senso. Cosa risponde ai tanti puttorrisi che stanno avanzando polemiche nelle ultime settimane contro l'amministrazione? Diciamo che il risorso è questo, è chiaro, glielo dico a tutti, il problema dell'ANU non è un problema semplicissimo dalle sopre. Noi abbiamo iniziato appena un mese fa, stiamo dando gli indirizzi giusti almeno per noi agli uffici, quindi cercheremo ovviamente di portarli avanti nel migliore di un anno.